Il presidente della Commissione Affari Generali, Salvatore Salemi, ha annunciato che la battaglia contro il fenomeno del randagismo e dei crimini ad esso legati non si ferma, anzi sarà intensificata e combattuta con tutti i mezzi possibili. Ho nutrito la necessità, ha spiegato Salemi, di convocare una commissione ad hoc sul randagismo al fine di consentire a tutti i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, di avere un quadro generale su una delle piaghe che attanaglia il nostro territorio, per cui si è deciso di calendarizzare delle commissioni ad hoc con cadenze settimanali per fare il punto della situazione, consentendo quindi al Consiglio Comunale di essere sempre al corrente del problema e dell'evoluzione della sua condizione, allo stesso tempo di permettere all'assessore al ramo Gianluco Chibinti di poter trarre spunto e idee dal confronto per meglio affrontare una tormentosa battaglia che ci vede tutti impegnati in prima linea. Pertanto Salemi sul tema randagismo, così come la stessa amministrazione comunale, non intende indetreggiare di un millimetro a partire da rifugio sanitario ai contati a Carosone di fatto inadatto e stracolmo di animali. Grazie a tutti.